La settimana sportiva New York al Madison Square Garden con la partecipazione di assi italiani, americani, francesi, canadesi, tedeschi, belgi, olandesi e irlandesi si corre la sei giorni ciclistica alla presenza di un pubblico tifosissimo e ben equipaggiato per resistere a lunghe ore di spettacolo. Un altro sport seguito con grande interesse è la lotta libera, in questa partita lo sconfitto è un capo indiano del peso di 120 kg. Gesù l'onere il peso di una storia e benévità e bilgiare la stagione della nostra che Ausi all'onere il peso di solis e il peso di un po' indietro della inattiva di un po' indietro di un po' indietro da partecipazione di assi della nostra strada inattiva. Gli sottotitoli, ho un po' indietro di era che per l'umare di deciso di un po' indietro postione la mia di particolare. Alla prossima delle giorni, il musica del ruolo. Il campione mondiale dei pesi massimi, Jimmy Braddock, si allena pubblicamente. Si dice che gli sia stata offerta la bella somma di 300.000 dollari per incontrarsi il 22 febbraio con il negro Joe Louis. Ed è già stabilito che questi dovrà battersi in giugno con il tedesco Max Schellingen.